Terra ospitale a Piantravigne quest'anno arriva sabato 17 giugno, tutto concentrato all'interno di un'unica giornata, l'appuntamento che di fatto apre per le frazioni terranuvesi le serate conviviali a base di prodotti enogastronomici della nostra zona. A partire dalle 17 ci sarà la consueta passeggiata, la partenza dai levatori di Piantravigne, e con passeggiata all'interno delle balze, però un sentiero insomma anche adatto ai bambini e poi durata circa un'ora e mezzo. A ritorno ci troviamo nel centro di Piantravigne, ci sarà il brindis all'estate perché abbiamo aderito all'iniziativa della regione toscana, dell'assessorato al turismo, arcobaleno d'estate e poi ci sarà una cena a seduti, quindi una cena in piazza e un piccolo spettacolo musicale. Questo evento è sempre in collaborazione agli abitanti di Piantravigne, a quelle persone che ogni anno mettono tanto impegno e tanta passione nell'organizzare questo evento, e quindi li ringraziamo. Quindi per le prenotazioni c'è il numero dell'ufficio informazioni oppure l'ufficio promozione del territorio.